Fabri Company perché non ha azionista di riferimento votato a Milano, votato a città 5 milioni e mezzo di market cap votato il proprio proprietario, forse a quanto ha il mazzo? L'azionista maggiore è Club 3, quindi sono tre azionisti italiani Buon lavoro, buongiorno, buongiorno Grazie a tutti Grazie a tutti.